Cari amici di Radio Maria, allora oggi vogliamo dedicare un po' di tempo a una riflessione di carattere, soprattutto di carattere teologico, cercando di capire alla luce della fede e alla luce dei messaggi della regina della pace, qual è il momento storico che stiamo vivendo? Perché comunque a livello di conoscenza umana, a livello di scienza, a livello anche di filosofia, sinceramente non riusciamo a cavare un ragno dal buco, nel senso che mai come in questo momento ho visto il pensiero umano, per così dire, la politica, i mass media, diciamo incapaci di analizzare la realtà, di dare, diciamo, di darsi una ragione, di indicare una prospettiva, neanche una via di uscita sia incapaci di prospettare davanti a noi, che sia comunque motivata, che abbia delle basi, insomma, perché poi le immaginazioni, i sogni sono un'altra cosa. Allora, però, in questo momento io mi rendo conto che veramente la fede, la parola di Dio e veramente anche la grande grazia che abbiamo la Madonna qui in mezzo a noi ci dà una luce che è per noi ma che è anche per tutti gli altri, perché in fondo è la luce della speranza, è anche la luce della vittoria del bene e dell'amore e la vittoria di Maria contro le potenze del male. Però, cari amici, vorrei anche, vorrei incominciare però con una riflessione che viene da un grande scienziato italiano che sicuramente è uno dei più grandi scienziati italiani, si chiama Guido Tonelli, ne avete già sentito parlare, fra l'altro anche un editorialista del Corriere, quindi vi tanto in tanto appaiono i suoi articoli e uno di questi, a mio parere, già a metà aprile aveva accentrato perfettamente cos'è questa pandemia per l'umanità, lui l'ha chiamata una vera e proprio catastrofe cosmica, catastrofe storica, però l'ha fatto dall'alto della sua scienza, che è una scienza particolare, la scienza della storia del mondo. Tonelli, come sapete, è una celebrità per due ragioni, prima di tutto perché la sua equip in concreto è stata quella che al CERN di Ginevra ha scoperto la cosiddetta particella di Dio, cioè quella particella piccolissima, la più infima di tutte le particelle, che ha dato origine a tutto l'universo. Questa particella era stata ipotizzata da due scienziati inglesi, uno si chiama Gibbs, si chiama Englert, però normalmente viene chiamata la particella di Higgs, ma lui l'aveva ipotizzata teoricamente, diceva che doveva esistere questa particella. Tonelli con la sua equip al CERN di Ginevra l'ha scoperta questa particella, questa particella che è emersa dal vuoto, non dal nulla, dal vuoto, quando appunto ci fu il beam bang iniziale e prima appunto di questa particella esisteva un vuoto, un vuoto ondulatorio dove emergevano particelle che poi cadevano, man mano che emergevano cadevano nel nulla, sempre e continuamente e avrebbe potuto continuare così in eterno, diciamo, in questo vuoto ondulatorio, senza materia, senza energia, se non che una particella è emersa ed è rimasta. E dice Tonelli, da quella particella è stato costruito questo meraviglioso universo. Allora, perché vi dico questo, cari amici? E perché Tonelli, insieme a tanti altri scienziati, poi ovviamente ha sviluppato la storia dell'universo, che è la storia appunto da questa particella, poi si formano gli atomi, tutte le altre particelle subatomiche, poi eccetera eccetera, insomma, si forma l'universo, quindi tutto l'universo è basato su questa particella, che viene chiamata la particella di Dio. E in un suo libretto che ha avuto una grande diffusione in questi ultimi anni, Tonelli, nel libretto intitolato Genesi, proprio come il libro della Sacra Scrittura, Tonelli descrive la storia dell'universo e descrivendola indica anche quale sarà la fine di questo universo, che è una fine, cari amici, molto brutta, molto dolorosa. si riecheggiano le parole di Gesù, cioè cielo e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno, cioè secondo Tonelli, ma secondo la scienza. Lui ne parla in questo libretto che vi raccomando, raccomando i giovani, soprattutto i giovani di leggerlo. Genesi vede la fine dell'universo come una catastrofe, una catastrofe vera e propria, che può avere due sentieri questa catastrofe, quella cioè in cui l'universo a un altro momento diventa una realtà senza energia, oscura, fredda. Quindi, come dire, per dire con le sue parole, tutto è destinato ad allontanarsi, perché le diciamo così le galassie si allontanano, fino a che un sudario buio e freddo calerà su un universo privato delle condizioni minime per ospitare una forma di vita. Quindi finirà nella catastrofe l'universo. Quindi una fine deprimente, dice lui, l'altra possibilità, cioè un'alternativa al freddo al buio, sarebbe quella di uscire di scena in un modo più spettacolare. Cioè che questa particella di Dio che sorregge l'universo ceda e allora tutto improvvisamente, da un momento all'altro, l'universo intero diventerebbe una bolla immane di pura energia. E quindi sarebbe una mostruosa catastrofe, dice Toninelli, che poteva avvenire domani mattina alle 5.45 o magari fa 10 miliardi di anni. Questa dunque è la parola catastrofe che Toninelli però ha usato parlando di questa pandemia. Cioè non siamo ancora alla fine del mondo, sia ben chiaro. Però Toninelli, vedi, questa pandemia nella storia dell'universo come una vera e propria catastrofe. L'ha scritto nel suo articolo sul Corriere 10 aprile, io ve l'ho già letto e commentato. Ve lo rileggo un pezzettino perché, cari amici, l'errore che noi possiamo fare è di sottovalutare questa pandemia. Sbagliamo, questa è la catastrofe più grande nella storia umana. Questo è il parere di Toninelli. Vediamo cosa dice. Io penso, dice che questa pandemia sia molto peggio di una guerra. Ha dimensioni planetarie e distrugge assieme a migliaia di esistenze un intero sistema di organizzazione sociale. La parola che più si avvicina a descrivere quello che stiamo vivendo è catastrofe. Il termine si può usare nell'accezione più comune di grave sciagura, improvviso disastro che colpisce il mondo intero. Ma credo che sia più adatto descrivere la situazione se si usa nel suo significato originario, cioè di radicale capovolgimento. Occorrerà insomma prendere atto che col Covid-19 il mondo non sarà mai più quello di prima. La crisi economica in cui siamo entrati sarà gravissima. Cambierà in profondità l'economia e l'intero modo di produzione e sconquasserà fin dalle radici i sistemi politici. Nonostante le parole di rassicurazione che ciascuno di noi sente ben tu di sé, è un mondo intero che vacilla e ci aspetta un lungo periodo di incertezza e di sofferenza. Tonnelli è un credente, questo ve lo dico perché comunque anche se lui si esprime e fa queste affermazioni basandosi esclusivamente sulla sua conoscenza dell'universo, ma soprattutto nulla sarà come prima perché noi non siamo più gli stessi. Siamo cambiati tutti in profondità e cambiata radicalmente la nostra concezione del mondo, cioè siamo tornati a una visione tragica dell'esistenza. E aggiungo anche se, mentre lo dico, qualcosa stridde dentro di me perché il prezzo pagato è enorme, forse è un bene che questo sia successo. Queste sono parole, sono le parole a mio parere più significative che sono state scritte o dette in questo periodo di pandemia. Data parte, cari amici, noi lo vediamo dopo ormai almeno tre o quattro mesi che il virus è, diciamo, sul tavolo delle discussioni, vediamo che c'è la scienza balbetta al di fuori di alcune indicazioni pratiche come mascherina, abistanziamento e altre cose, non riesce a dare altri, non riesce a dare nulla in più. La cancelliera Angela Merkel, che comunque è una persona che in questo tempo di pandemia è stata ritenuta il politico migliore per la qualità della sua comunicazione, ieri ha detto che, di non farsi illusioni, siamo all'inizio, ha detto di questa pandemia, non ci sono né medicine né il vaccino. Sì, qualche medicina c'è, la plasmoterapia però è una di fronte a milioni e milioni di persone, è chiaro che occorrebbero una produzione di plasma che per il momento non c'è, comunque sia. Poi c'è anche da dire quello che dicono molti scienziati, questo virus non è conosciuto, è nuovo, non si comporta secondo le regole degli altri virus, è qualcosa di misterioso, non si può prevedere niente. Quindi, cari amici, c'è la politica, la scienza balbetta, la politica tende in questo momento a evitare il peggio, ma non sappiamo come si reagirà quando probabilmente il sistema economico comincerà a vacillare, a crollare, cosa succederà nel mondo. Quindi possiamo dire che non abbiamo in mano, come ci illudevamo, il volante che guida la storia, cioè, come abbiamo giustamente detto, l'ha detto anche in Santo Padre, più di un'occasione, ci siamo trovati tutti smarriti, dispersi e poveri di fronte a questa calamità. Allora, questo è quanto vediamo, cioè, noi un grande scienziato ci ha detto che non faccio illusioni, siamo di fronte a una catastrofe, però ha anche detto, forse è un bene che questo sia successo, però, di fronte a questo scenario, a mio parere, bisogna aprire un altro scenario e questo ce lo apre la fede. Cioè, questa situazione è gravissima dal punto di vista sanitario, politico, economico, esistenziale, la paura, il timore per il futuro, i suicidi, le depressioni, insomma, l'incertezza, la mancanza di una direzione, cioè, mi duole dirlo, cari amici, ma anche le voci più elevate e più alte, che dovrebbero essere quelle delle religioni, non si sentono, non dicono, non esitano, diciamo, si appiattiscono sul quotidiano, ma mancano di aperture di carattere sopranaturale e quindi, a questo punto, ovviamente, si comprende la grande grazia di aver avuto qui con noi in tutti questi tempi e in questi momenti le parole della Regina della Pace, quelli che sono risuonati in questi mesi in modo particolare, di grande luce, quando la Madonna ci ha invitato a non avere paura, ci ha invitato a pregare, perché i nostri benessi sarebbero state esaudite, cari amici, però nel medesimo tempo la Madonna ci ha aperto scenari catastrofici, per la verità. lei non ha mai, giustamente si dice che la Madonna è venuta qui per rincuorarci, non per farci paura, però, cari amici, cerchiamo di essere realisti. Quando la Madonna ha detto il primo gennaio della notte del primo gennaio del 2000, ha detto, ora che Satana è sciolto da le catene consacrate dal mio cuore, a quello del mio figlio Gesù, noi non abbiamo pensato questa frase, questa frase è qualcosa di terribile, Satana è sciolto da le catene, vuol dire che le potenze del male possono fare quello che vogliono. Certamente Dio ha messo dei limiti, però è pur sempre una realtà tremenda quella che ha indicato la Madonna, e poi nel messaggio proprio del giorno dell'annunciazione del 25 marzo la Madonna ha detto che, come sempre, lei le mette giù bene le cose, ha detto, cercate Dio e il dialogo con Dio dentro di voi perché Satana regna e vuole distruggere le vostre vite e il periodo su quale camminate, anche questa frase è entrata in un orecchio e è uscita dall'altro, ma è una frase terribile, dire che Satana regna, quindi se da una parte Tonnelli ci dice che questa è una catastrofe nel senso radicale della parola, per cui il futuro non sarà più come il passato, sarà totalmente diverso e che ci aspetta un tempo di sofferenza, un lungo periodo di incertezza e di sofferenza, ha detto Tonnelli, ci aspetta un lungo periodo di incertezza e di sofferenza, quindi se la scienza arriva a dire questo, la fede ci dice qualcosa di ancora più grave, cari amici, e cioè che l'umanità è nel caos morale e nel caos intellettuale e morale, intellettuale perché avendo rinunciato a Dio, Dio creatore, Dio provvidente, avendo rinunciato a Dio ha perso anche il senso della dignità dell'uomo, fatto immagine di Dio, ha perso il senso della prospettiva della vita eterna, ha perso il senso della legge morale, l'umanità è entrata nell'oscurità della menzogna, cioè in una menzogna tipica del tentatore che è quella appunto di illudre l'uomo, di essere alla pari di Dio, di essere al posto di Dio e poi quello lo vediamo con i nostri occhi, cari amici, il collasso morale dell'umanità che si esprime soprattutto nella violenza, nella distruzione dell'uomo, della vita e si esprime nella riduzione dell'uomo un elemento di questo mondo e si esprime nella distruzione della legge morale, cioè dei dieci comandamenti, quindi diciamo così, il quadro è proprio questo, non facciamoci illusioni, cioè è una catastrofe storica, tale da distruggere il passato, quello che avevamo alle spalle e di prospettarci un lungo periodo di incertezza e di sofferenza. È una catastrofe da punto di vista della scienza e della politica incapaci assolutamente di far fronte a questa pandemia e soprattutto rivela, quello che noi vediamo, rivela qualcosa di terribile e cioè che Satana regna, cioè è entrato nella mente e nel cuore, ha imposto la sua menzogna e ha inucurato nei cuori l'odio, come ci ha detto la Madonna, il mondo è in guerra, nei cuori regna l'odio. Queste parole della Madonna non le possiamo sorvolare, sono le uniche vere, le uniche che ci dicono come stanno le cose, cari amici e soprattutto queste parole della Madonna ci dicono che la catastrofe in tutti i suoi componenti visibili e invisibili, temporali e soprannaturali, questa catastrofe da quale ci troviamo cari amici a un attore che è il principe di questo mondo. Quindi, cari amici, nel bel mezzo della pandemia la Madonna ci ha detto 25 marzo 2020, Satana regna e vuol distruggere le vostre vite e il presente sul quale vivete. Quindi, cari amici, questo è fuori dubbio che sarebbe a mio parere poco intelligente, scusatemi tanto, a ritenere questa pandemia una punizione divina, cioè come se questa pandemia avesse origine da Dio. Questa pandemia non ha origine da Dio. Vi ricordate sia Mario quando l'ho intervistata in occasione del messaggio del 25 lei ha attribuito proprio questa pandemia al demonio e al medesimo tempo Visca, noi abbiamo anche la piccola dichiarazione che ha fatto Visca per Radio Maria Nazareth e che poi abbiamo trasmesso anche noi, Visca ha detto questa pandemia non viene da Dio, viene dall'altra parte, cioè dal demonio e poi ha anche detto passerà. Comunque sia per dire che attribuire questa catastrofe a una punizione divina a mio parere siamo fuori dalla corretta interpretazione teologica, cioè come sia arrivata questa pandemia non lo sappiamo. Probabilmente si stava cercando di lavorare su questo virus e poi o è scappato dalle mani o è stata programmata la pandemia. Non evito niente, perché Salvatore dice Satana regna, Satana regna nelle menti e dei quali degli uomini e quindi non escludo niente, ma non mi interessa neanche saperlo da dove viene. Però certamente non veniva Dio, viene dal demonio, ma la Madonna l'ha permessa. Cioè Dio l'ha permessa. E qui mi viene in mente, rivediamo quello che ha detto Tonelli e cioè Tonelli ha detto che mi costa dire questa cosa, dice Tonelli, ma forse è bene che questo sia successo. Perché cari amici, forse è bene che questo sia successo. Se Dio permette un male, un male che viene dal maligno, uno dice ora è chiaro che il male viene dal maligno attraverso la mediazione umana, cioè attraverso la negligenza degli uomini o i progetti degli uomini. Magari vogliono preparare un virus per l'HIV o forse vogliono preparare dei virus per le armi bacteriologiche. Quindi può darsi che sia sfuggito di mano per un incidente come già altre volte era accaduto. Può darsi che sia un progetto malefico da parte di chi ritiene che in questo mondo siamo troppi e che bisognerebbe ridurre di molto l'umanità e che allora si capisce perché la Madonna dice Satana vuol distruggere le vostre vite. Cioè Satana vuol distruggere le vostre vite. Aveva mai usato questa frase la Madonna. Distruggere le vostre vite. Aveva detto nel 1991 vuol distruggere la vita, la natura e il pianeta su quale vivete. attraverso le vostre vite. Cioè come se le nostre vite personalmente, singolarmente, fossero in pericolo. Allora, cari amici, l'ha permesso Dio questa cosa? L'ha permesso per il nostro bene? E infatti un beneficio c'è stato, cari amici, non c'è dubbio perché sono crollate le certezze illusorie. Io sinteticamente direi è incominciato a scricchiolare il mondo nuovo senza Dio. E' incominciato a cadere nella mente e nel cuore degli uomini questo mondo nuovo senza Dio per il quale non c'è futuro nella vita eterna, ha detto la Madonna. Certo, adesso noi vediamo che l'umanità mica ha imparato la lezione, cioè non ha mica imparato la lezione. Cioè Dio ha permesso questo perché ci rendessimo conto che la nostra torre di Babelio non stava in piedi, perché ci rendessimo conto che mettersi al posto di Dio comporta quanto è successo ai nostri progenitori che sono usciti dal paradiso terrestre perdendo tutti i doni che avevano ricevuto e andando sotto il potere del maligno. Quindi Dio l'ha permesso perché noi, come dire, aprissimo gli occhi. Li abbiamo aperti? Per me no. Per me no. Anzi, vedete che la Madonna nel messaggio di aprile ha detto state attenti che i vostri cuori non si induriscano, cioè peggio che peggio i cuori si sono quasi induriti. Cioè io non ho visto nessuna, a parte le persone semplici e buone che hanno moltiplicato le preghiere. Forse qualcuno si sarà convertito. Ma io di persone che si sono convertite con la pandemia non ne ho sentita neanche una. Scusate, ho visto e vedo, ho visto e vedo la furia con cui sono state chiuse le chiese, come è maltrattata la religione, come sono i risi non credenti, come è aumentata la prepotenza e come si vuole approfittare di questo tempo di pandemia e di sofferenza per imporre il dominio dell'uomo sull'uomo. Io questo ho visto, cari amici, e quindi e quindi questo è preoccupante. Questo è preoccupante perché invece di innescare un processo di liberazione dalla menzogna, invece di aprire gli occhi, invece di liberare il cuore, invece di diventare figli di Dio, invece di tornare a Dio e ai suoi comandamenti, ci stiamo dando da fare per rimettere tutto in piede come prima. Tant'è vero che adesso nel Parlamento italiano come priorità nel mese di luglio ci sarà la discussione sull'omofobia, poi in realtà questa discussione dove vuole arrivare? Vuole arrivare a mettere in galera o comunque a punire quelli che dicono che l'uomo è maschio e femmina e che il padre è il padre, la madre è la madre. Quindi questo è l'obiettivo. Questi sono i processi reali che ci sono nel mondo. Dov'è la conversione? Non c'è la conversione, cari amici. Allora, questo è molto pericoloso. Questo è il vero pericolo. È la spalla di Damocle sul collo dell'umanità, per usare un'espressione che usò a suo tempo quando era Papa Benevetto XVI. Allora, cari amici, adesso apriamo il cuore della nostra riflessione. Cioè, noi cosa dobbiamo fare? Cioè, noi dobbiamo assolutamente avere le idee chiare. Cioè, lasciarsi illuminare dalla luce della fede. Cioè, cosa sta accadendo? Cos'è accaduto? Cari amici, sta accadendo. Ed è accaduto questo, che l'umanità che aveva accolto la grazia della redenzione, cioè tutto l'Occidente, in pratica, non totalmente, ma in grande maggioranza, ha abbandonato la fede. La fede nel Dio che si fa uomo. La fede nella redenzione. La fede nella vita eterna. La fede, diciamo, nel soprannaturale. La fede che ci viene dalla divina rivelazione, l'ha abbandonata. L'ha abbandonata. E ha abbandonato la croce. Ha abbandonato la salvezza. Noi cristiani occidentali, nel giro di questi ultimi quattro secoli, abbiamo abbandonato il cristianesimo e abbiamo scelto un'altra religione, che ormai è egemone e vuole estendere egemonia su tutto il mondo, che comunque domina tutte le istituzioni di carattere politico, economico, sociale, culturale, masmediatico. Ed è la religione dell'uomo che si fa Dio, che si mette al posto di Dio, cari amici. Questo è la catastrofe. Questo è il pericolo, perché ci siamo messi nelle mani del principe di questo mondo. Capire questo è fondamentale. Che la Chiesi spieghi questo è fondamentale. Ce l'ha detto la Madonna. E quindi, cari amici, dobbiamo prendere coscienza che Satana ci ha ingannato, che è riuscito a ingannare come ha ingannato i progenitori, indicando loro se farete di testa vostra sarete come Dio. E noi abbiamo fatto uguale. Invece di accettare la redenzione e la salvezza da parte del Dio fatto uomo, di Gesù Cristo, noi abbiamo detto facciamo noi, con la nostra scienza, con la nostra tecnica. Noi siamo i padroni del mondo. Non c'è Dio, non c'è anima, non c'è immortalità, non c'è moralità. Noi la recidiamo. Non ci sono i comandamenti, non c'è l'aldilà. E questo mondo è Dio. Mi viene in mente quello che dice la scienza su questo mondo. Questo mondo corre velocemente verso la catastrofe. E poi diciamo che questo mondo è Dio. Corre velocemente verso una catastrofe irreversibile. E non ci sarà nessun eterno ritorno. Ma ci sarà, sotto il profilo della luce soprannaturale, della potenza d'amore di Dio, cieli nuovi e terra nuova. Allora, cari amici, cosa dobbiamo fare? Prendere coscienza che Satana ci ha ingannato. Come ha ingannato i progenitori, ci ha fatto cambiare religione, ci ha fatto credere di essere liberi, indipendenti, salvatore di noi stessi. Ci ha fatto credere che questa terra è un paradiso, che si può fare il paradiso in terra, che la morte e la sofferenza la possiamo eliminare noi, che il peccato non esiste, è un'invenzione, che Dio non c'è. Abbiamo rinnegato Cristo, abbiamo rinnegato Dio, Satana ci ha ingannato. Questo è il fatto, cari amici. Primo passo, prendere coscienza dell'inganno satanico. E quando ha preso coscienza dell'inganno satanico i nostri progenitori? Quando ha preso tutti i doni soprannaturali, come li ha descritti in Masaccio nella Cappella Brancacci, escono come due poveri disgraziati che urlano il loro dolore, avendo perso i doni dell'immortalità, dell'esenzione della sofferenza, tutti i doni che avevano perso da parte, avevano perso Dio e i suoi doni e sono andati sotto il potere del maligno. Questo è quello che abbiamo fatto noi. Adesso siamo qui, cari amici, che, come dire, siamo qui, che ci godiamo il governo di Satana. Ci stiamo godendo quello che ci sta preparando il principio di questo mondo. Abbiamo mandato Cristo, abbiamo voluto seguire il tentatore, ecco, ci ha preparato quello che lui sta preparando, cioè l'inferno qui su questa terra. Allora, prendere coscienza, adesso passo rapidamente, cari amici, ai passi che dobbiamo fare. Se vogliamo evitare la catastrofe, se vogliamo che la Madonna ci togga la catastrofe, primo passo, cari amici, dobbiamo prendere coscienza dell'inganno satanico. Secondo passo, so, cari amici, dobbiamo ascoltare la regina della pace. Dio ce l'ha messa qui da 39 anni perché, per salvare l'umanità da questo grande attacco del maligno di Satra sotto delle catene, cari amici, è qui da 39 anni che ci insegna la divina rivelazione, cioè la verità rivelata che è Cristo stesso, ci indica la via della santità ai comandamenti, ci indica la via della salvezza. E, cari amici, cosa ha detto la Madonna per quanto riguarda la nostra risposta e soprattutto la risposta della Chiesa, perché fino a provo contraria la Madonna prima di tutto ha parlato alla Chiesa. Ebbene, eccola qua, il bilancio che ha fatto la Madonna il 25 agosto del 2011. Molti hanno risposto, ma è enorme il numero di coloro che non vogliono sentire né accettare il mio invito. E anche in questa pandemia si sono induriti. Proprio in questa pandemia, in questi mesi, si sono moltiplicati gli attacchi alla regina della pace. Quindi, quindi, dobbiamo accogliere questo dono incommensurabile, perché è lei che Dio ha messo in campo per liberarci dal potere dell'inferno. Terzo, indico tutti i passi che dobbiamo fare. Primo, prendere coscienza dell'inganno satanico. Secondo, ascoltare, accogliere la regina della pace. Diversamente non ci salviamo, cari amici, perché questa è l'ancora di salvezza che Dio ci ha dato. O la feriamo, o ci attacchiamo a lei, o periamo. Questo l'ha deciso suo figlio di inviare lei per l'ultima apparizione sulla terra. Dobbiamo, ecco, il passo successivo, come ha detto la Madonna nel suo ultimo messaggio. Quello del 25 maggio 2020. Tornare a Dio e i comandamenti. Tornare a Dio. Tornare a Gesù Cristo. Perché la Madonna l'ha detto tante volte, mio figlio è Dio. Uomo è Dio. Tornare, ha detto, ritornate a mio figlio, ha detto d'aprile. Ha detto, ritornate a Dio i comandamenti, ha detto a maggio. Dobbiamo abbandonare la falsa religione nella quale siamo adagiati, o che addirittura abbiamo scelto commettendo il peccato di apostasia. E tornare a Gesù Cristo. Tornare ai sacramenti. Tornare ai comandamenti. Se non facciamo questo, cari amici, periremo. Come ha detto Gesù. Se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. Disse Gesù commentando quelli che erano morti quando cadde la torre di Siloe. Allora, cari amici, cosa vuol dire tornare a Dio e i comandamenti? Vuol dire iniziare il cammino della conversione. La conversione, cari amici, è la più grande grazia che oggi dobbiamo chiedere. È un miracolo. Il miracolo di Dio. Il più grande miracolo che Dio possa compiere. Un cuore che si converte, cari amici, è un miracolo più grande della risurrezione di un cadavere. Ci sono tanti di questi miracoli nel mondo e soprattutto nella storia di Međugorje. Questi miracoli vediamo anche sotto i nostri occhi. Questi miracoli si devono moltiplicare. È perciò, cari amici, tutti quelli che hanno preso coscienza dell'inganno satanico, cosa devono fare? Nella preghiera chiedere a Dio la grazia della loro conversione. Cosa devo fare per convertirmi? Incomincia a pregare e a chiedere la grazia della conversione, cari amici. Questa è la più grande grazia e questo è il miracolo più grande. Questa battaglia, carissimi, ricordatevi, si svolge tutta nel nostro cuore. È per quello che la Madonna, in questi messaggi del tempo della pandemia, ci ha richiamato una volta a rientrare nel nostro cuore, a sentire la voce di Dio nel nostro cuore, al tu per tu con Dio nel nostro cuore, ad ascoltare la voce della coscienza. Vi invito, vi invito a rientrare in voi stessi, ad ascoltare Dio che vi parla, ascoltare Dio che vi chiama, ascoltare Dio che con le quali il demonio vi tiene schiavi. Cari amici, questo si svolge tutto nel vostro cuore e, cari amici, questa è la più grande battaglia. Perché Satana vi mette le unghie nel collo, non vi molla, vi lega con catene doppie, con i ceppi alle mani e i piedi al collo, non vuole mollarvi, vi tiene legati con i vostri vizi, ci tiene legati con i nostri vizi, con la superbia, con l'avarizia, con la lussuria, con la copidicia, con la prepotenza, con l'invidia, ci tiene legati, schiavi con i nostri vizi, cari amici. E qui si deve, cari amici, innescare la più grande battaglia, supplicare Dio che ci dia la forza. E in questi giorni che si preparano la Pentecoste, chiedere la grazia dello Spirito Santo, che è luce, che illumina, ma è anche fortezza, che ci dà la possibilità di far risuscitare il nostro libero arbitrio caduto in coma a causa del peccato. Cari amici, la decisione è la più grande, la decisione di convertirsi è la decisione più importante della vita. Perché da essa dipende il nostro destino eterno. Attenzione alle sirene, alle sirene moderniste, che qualche volta sonnano questa musica anche dei pulpiti, cioè che uno si può salvare senza convertirsi. Non esiste questa cosa. È un simbilo satanico. Se tu vuoi salvarti, devi dire no al peccato, devi dire no a Satana, devi dire rinuncio, devi dire al mondo sta lì, malevetto paese. Guai a noi, cari amici, se ci illudiamo di salvarci senza decidere la conversione, senza decidere di tagliare i legami peccaminosi, senza decidere di seguire i comandamenti. Non esiste che Dio ci perdoni quando noi vogliamo stare schiavi del demonio. E quindi questa è la più grande battaglia. Questa è l'appuntamento al quale la Madonna ci aspetta per ascoltare le nostre preghiere. Cioè la Madonna ci libera da questo virus diabolico se noi ci convertiamo. Se noi diciamo no al maligno, se noi incominciamo a camminare sulla via della salvezza. Se noi non decidiamo di essere di Cristo e continuiamo a essere del demonio, il demonio ci porterà alla distruzione. Non ci riuscirà perché grazie a Dio c'è un resto che la Madonna si è già tenuto per sé e col quale ci ha detto nell'ultimo messaggio pregate con me, col quale intercede presso il cuore di Cristo. Perché molti si convertino, si convertano, ma devono convertirsi. Non c'è nessuna possibilità di salvarsi. E vi dico, non c'è nessuna possibilità di uscire da questa pandemia se non ci convertiamo. Non c'è. Non c'è nessuna possibilità di star bene se siamo schiavi del maligno. Si sta bene solo con Dio. Si ha la pace solo in grazia di Dio. Si è contenti solo osservando i comandamenti. Tutto il resto è inganno. Satana vi distrugge con quello che vi offre, ha detto la Madonna. E quindi se proprio non sappiamo cosa fare, perché siamo dei poveretti dei quali Satana si prende gioco, sono parola della Madonna queste, mettiamoci in gioco e diciamo, Signore, liberami dal maligno, abbi pietà di me, perdoni i miei peccati. Diciamo questo. Poi, questi sono i passi più importanti, perché poi quando la grazia incomincia ad agire nel cuore, pian piano la potenza dalla grazia e dallo Spirito Santo ci libera dalle catene diaboliche, ci libera dal possesso satanico che ha sulla nostra anima e le nostre anime ammalate che vanno verso la morte spirituale, incominciano a star meglio, incominciano a rivivere e inizia un cammino difficile, doloroso, ma è come un parto attraverso il quale rinasciamo come nuove creature, cari amici. Questa vittoria della conversione dei nostri cuori ci libererà dalla pandemia, ma farà molto di più, cari amici. Perché, a mio parere, la Madonna ha permesso questa pandemia per prepararci, ha permesso questa battaglia, ovviamente, per prepararci alle future battaglie che ci saranno. Perfino il nostro scienziato sul piano umano ci aspetta un lungo periodo di sofferenza e di fatiche sul piano umano, ma sul piano soprannaturale e sarà la battaglia scatologica per eccellenza. Una volta che abbiamo vinta questa, cari amici, la Madonna ci libererà dalla pandemia. Più saranno quelle persone che si convertono e ritornano a Dio, che abbiurano la falsa religione dell'uomo che si fa Dio. Abbiuratela, è una menzogna satanica. Ritornate a Cristo. Più saranno e più presto scomparirà questa pandemia, cari amici. E soprattutto, cari amici, questa vittoria di oggi preparerà le successive vittorie, quelle che precedono il trionfo del cuore immacrato di Maria, che non diciamo quelle dei segreti. Il tempo dei segreti è un tempo per il quale la Madonna ci sta preparando. Attraverso questa pandemia la Madonna vuole raccogliere un esercito di convertiti, di quelli che sono già la sua vittoria sul demonio, per poter vincere le successive battaglie. Quindi, cari amici, questa vittoria di oggi nei nostri cuori non solo ci libererà dal virus, ma preparerà le successive vittorie e il trionfo del cuore immacrato di Maria. Cari amici, quello che vi ho detto non sono parole, diciamo, sventate. Che siamo in un clima di catastrofe e fuori discussione, insomma. Da tutti i punti di vista, umano e soprannaturale, insomma. Umano, il fallimento della scienza, della politica, insomma, dell'economia. Abbiamo sentito qualche avvetto Guido Tonelli e abbiamo soprattutto visto la catastrofe spirituale in cui c'è l'umanità che ha rinegato Cristo e ha scelto Baal, gli idoli della natura, insomma. Questa è una catastrofe. Questa catastrofe, cari amici, è il regno di Satana. Se ne esce fuori con la preghiera e la conversione. La vittoria nei nostri cuori sul maligno prepara la grande vittoria che libererà l'umanità e preparerà i tempi nuovi per i quali la Madonna ci sta preparando, come ha detto nel messaggio del 25 giugno del 2018. E quindi, carissimi, adesso, camminando verso il compimento del 39esimo anno e verso il messaggio del 25 giugno del 2000, cari amici, diamo alla Madonna questa grande gioia di di tanti cuori convertiti. E lei, vi assicuro, che manterrà la promessa. Cioè, se ritorneremo a suo figlio, ha detto, se ritorneremo a Dio i suoi comandamenti, le nostre preghiere verranno esaudite, verranno ascoltate e così sia.